Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla 1 tra Barberino del Mugello e Calenzano in direzione Roma è stato riaperto il tratto dopo il ribaltamento di un camion avvenuto al chilometro 275. Restano 12 chilometri di coda tra Badia e Barberino in direzione sud, 5 chilometri di coda in uscita a Barberino del Mugello e 4 chilometri di coda tra Firenze e Scandicci e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sempre in A1 code in uscita a Firenze sud per traffico intenso provenendo da Bologna, in A11 in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e Firenze Ovest. Sulla FIPILI rallentamenti tra Firenze e Scandicci e l'allacciamento per la 1 in direzione Firenze. Ovest in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.